Ancora solo 200.000 dossi al giorno, vaccinazione a rilento in molte regioni. Nell'ultima settimana lieve diminuzioni dei casi, ma forte aumento dei ricoveri. Sciopero di 24 ore del sistema Amazon e ritmi di lavoro alla base della protesta, diffusa l'adesione su tutto il territorio nazionale. L'inflazione fa più paura del virus. Secondo il 37% degli investitori sondati da Merrill Lynch, è il fattore di rischio maggiore per la ripresa economica. Crolla la lira turca con un depreciamento tra il 10 e il 15%. Erdogan licenzia il governatore della Banca Centrale. Oggi giornata mondiale dell'acqua. L'emergenza idrica investe anche l'Italia. In 50 anni perse risorse idriche per 5 miliardi di metri cubi. L'ergo.